Dopo alcuni giorni ad alta tensione si rassenerina un po' il clima, un contatto telefono questa mattina con il prefetto Gabrielli e sono arrivate rassicurazioni importanti. Sì, ad alta tensione fino a un certo punto, diciamo che andavano chiarite alcune questioni, le abbiamo chiarite, abbiamo sempre avuto orecchio spalancato da quella parte, quindi una volta messi in campo gli argomenti giusti è andato tutto come doveva andare. Stamattina ho chiamato il prefetto Gabrielli che mi ha confermato come manderanno la lettera alla proprietà della Frasca che la struttura non è utilizzabile per l'arrivo dei migranti. Sarà inviata una lettera anche ai comuni della provincia, non c'è Civitavecchia perché, riassumendo, in questa lettera si c'è della disponibilità per ospitare migranti tranne le città che già li stanno ospitando o comunque li ospiteranno. Civitavecchia c'è il progetto dei Carolis. Sì, noi, il vice sindaco e il dottor Floccare in quella riunione chiesero proprio che l'emergenza venisse spalmata o comunque gestita nell'ambito di tutte e 121 comuni della provincia. La proposta è stata accolta e stamattina e ieri sera è arrivata questa nota da parte della prefettura dove non sono previsti arrivi a Civitavecchia perché comunque va avanti il progetto della De Carolis che vedrà protagonista anche l'amministrazione comunale i cui tecnici coadiuveranno quelli del proprietario dei lavori pubblici nell'opera di ristrutturazione della De Carolis. Purtroppo parliamo di un'emergenza quella dei migranti terribilmente drammatica e anche attuale, non si possono fare previsioni, però stando al progetto attuale, quello della De Carolis, i tempi non sono brevi? No, i tempi non sono brevi, la prefettura li stimava nell'ordine di un anno e mezzo, quindi all'atto pratico francamente non lo so, però a mio parere c'è tutto il tempo di prepararsi e di gestire questa emergenza, questa evenienza senza incorrere negli errori che sono stati fatti 4 anni fa.